Ci facciamo un caffè? Devo studiare. Dai. Un caffè? Cinque minuti? Mamma, non riesco a concentrarmi. Ma perché c'è lui che suona? Le do, le mi sol fa, mi, mi, mi fa. Va bene, va bene, ti faccio il caffè. Lo sai che Beppe si è incazzato con me l'altra sera quando siamo usciti? Perché io ero preoccupata per il papà e lì mi ha detto che si sente tagliato fuori dalla mia vita. Mi dispiace. Poi siamo andati al ristorante, anche lì io ero un po' taciturno perché c'erano questi amici che potevano parlare di un caffè. E Beppe desidera tantissimo avere un figlio. Tra l'altro io penso che sia un padre meraviglioso, ma potrebbe essere un padre fantastico. Non pensi? Che ne so, sì. Ma perché no? Sicuramente sì, un padre stupendo. Io ho voi? Ma lui non ha nessuno. Ha solo me. Forse non mi basso nemmeno lì. Ma ti dà fastidio che ti parli di queste cose? Ah, ho preso il salmone per farlo affumicato con te. O l'ex fidanzata di Beppe è impazzita quando saputo che stavamo insieme. Perché noi abbiamo un rapporto veramente passionale. Io non riesco a stare lontano. È la prima volta che io mi sento veramente di appartenere a qualcuno. Cosa fai? Mi hai detto tu che deve fare il salmone affumicato. Senti. Oh, hai riuscito a finirla la canzone? Guarda, Mario che si incartava sempre su un passaggio. Ascoltami, ascoltami, ascoltami. Allora, io voglio tanto bene, papà. Però l'amore è una cosa molto complicata. Anche per me è complicato l'amore, mamma. Oh, scusa, hai sentito? Oh, la miseria, la sua mano è la mano. Una volta. Rispondo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Ciao.